buongiorno ragazzi forza le venerdì faccio un video a quest'ora perché devo uscire presto per lavoro non ho voglia di fare i video in auto non mi piace fare i video in auto e mi raccomando vi ricordo a tutti di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina quindi mi raccomando ragazzi visto che è gratis per chi volesse sostenere il canale lo può fare con un semplice clic iscrivendosi ed attivando la campanellina perché stiamo organizzando le live sulla juventus processo prisma poi mi sentirò con fmb con alessandro g per quanto riguarda gli arabi e via discorrendo proprio per quello che di clamoroso è successo eh nelle scorse ore diciamo che eh vi volevo riportare un attimino a delle cose e dei professionisti che scrivono sui giornali che vanno in televisione vi hanno detto per mesi ovverosia se ricordate vi dicevano che agli arabi non interessa l'inter ma poi vi dicevano anche che la meloni odiava l'inter che non le odiava scusate gli arabi infatti lo abbiamo visto a Bruxelles l'altra sera come la meloni odia Bin Salman vi hanno detto una marea di fandonie perché poi voglio anche rimarcare quando vi dicevano che Pinco Inter era fatta e Zang aveva rifinanziato e che addirittura Zang sarebbe andato amati fino al duemilaventisette quando io facevo Pinco vi ricordate dopo con con tutti i giornali del mondo e vi dicevano eh e eh soprattutto youtubers che ormai sono a rantolo per quello che riguarda la parte mediatica che fanno live con mille visual non riguarda più nessuno perché dopo Lasri Bertarelli Pinco ormai la gente non ti vede più eh è normale perché eri eri proprio te reverendo a dire che agli arabi non interessava l'inter sei stato te per una vita a dirlo e ora non scappi più non scappi più caro reverendo agli arabi non interessa l'inter non ti ne frega nulla quindi eh Pinco Pinco infatti l'ho visto come 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 ha rifinanziato l'inter Pinco sì ma c'è Pinco dentro vai a letto tranquillo c'è Pinco nell'inter ma a parte queste figure barbine che hanno fatto quelli che si definiscono eh dei professionisti quello che bisogna sottolineare quello che bisogna sottolineare e quello che bisogna poi dopo eh analizzare è che nemmeno l'acquisizione del Newcastle ebbe tutto questo clamore per quello che riguarda loro i sauditi perché c'è tutto questo l'amore intorno all'inter perché i sauditi puntano sull'inter ma puntano sull'inter per investire sull'inter comprandosela l'inter perché sotto i tweet istituzionali con a sua volta dei pareri dei messaggi dei tweet di altrettante persone istituzionali e per quello che riguarda l'Arabia Saudita ovviamente danno il passaggio di proprietà se andate a vedere per scontato gli stessi sauditi ormai su Twitter su quei Twitter istituzionali se andate sotto eh eh guardate chi scrive guardate le figure che scrivono sull'inter danno il passaggio di proprietà come cosa addirittura come cosa fatta già quindi loro sono troppo potenti hanno troppi soldi per fare per non puntare sull'inter perché il discorso qual è non può non ci può essere tutto questo clamore per una semplice collaborazione commerciale sarebbe troppo poco ingiustificato tutto questo entusiasmo per una collaborazione commerciale tra Inter e Arabia Saudita questo è è successo qualcosa di clamoroso che ancora molti non hanno eh capito e ripeto molti commenti di figure istituzionali ai tweet a sua volta ai tweet istituzionali danno il passaggio proprietà per cosa ormai fatta addirittura scontata quindi attenzione sono loro che puntano sull'inter questo non è un semplice accordo commerciale per aprire un museo non fanno tutto questo assino perché l'inter va lì e apre un museo o perché c'è uno scambio di risorse umane loro hanno fatto tutto questo l'amore vedi anche le persone poi istituzionali hanno fatto i tweet io ieri ho fatto un ieri ho fatto proprio tweet e ho postato chi ha scritto andate a vedere chi ha scritto sull'inter tutto questo l'amore tutta questa visibilità ripeto non è perché l'inter apre un museo in Arabia Saudita è perché loro puntano sull'inter è diverso ed è loro che si prenderanno l'inter ed è voi che poi dopo dovrete chiedere scusa cialtroni ciao inter picco l'ha visto picco picco